ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco e zevast fide farmaceutici spa ultimo aggiornamento 7 marzo 2022 cosa è zevast confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere zevast durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa è zevast e zevasta un farmaco a base del principio attivo ezetimibe più aturvastatina appartenente alla categoria degli ipoli pemizzanti statine e nello specifico associazioni di varie sostanze modificatrici dei lipidi è commercializzato in italia dall'azienda fide farmaceutici spa e zevast può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni e zevast 10 mg barra 10 mg 30 compresse e zevast 10 mg barra 20 mg 30 compresse e zevast 10 mg barra 40 mg 30 compresse e zevast 10 mg barra 80 mg 30 compresse informazioni commerciali sulla prescrizione titolare fide farmaceutici spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo ezetimibe più aturvastatina gruppo terapeutico ipoli pemizzanti statine forma farmaceutica compressa indicazioni e zevastina giunta alla dieta indicato come terapia sostitutiva per il trattamento di adulti con ipercolesterolemia primaria eterozigote e omozigote familiare e non familiare o con iperlipidemia mista già controllata con la torvastatina ed ezetimibe somministrati simultaneamente allo stesso livello di dose posologia posologia la dose raccomandata di zevasta di 1 compressa al giorno la dose massima raccomandata di zevasta di 10 mg barra 80 mg al giorno il paziente deve seguire un adeguato regime dietetico a basso contenuto lipidico e deve proseguire la dieta nel corso del trattamento con e zevast e zevast non adatto per la terapia iniziale l'inizio del trattamento o l'aggiustamento della dose se necessario devono essere attuati unicamente con i monocomponenti e solo dopo aver stabilito la giusta dose ha possibile il passaggio all'associazione con dose fissa del dosaggio appropriato anziani non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti anziani vedere il paragrafo 52 popolazione pediatrica non sono disponibili dati sufficienti sull'efficacia e sulla sicurezza di zevast nei bambini e negli adolescenti vedere il paragrafo 52 nessun dato disponibile pazienti con compromissione epatica e zevast non ha raccomandato nei pazienti con compromissione epatica moderata o grave killed pug a 0 yen 7 vedere i paragrafi 4 4 e 52 e zevasta controindicato nei pazienti con epatopatia attiva vedere il paragrafo 43 pazienti con compromissione renale non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti con compromissione renale vedere il paragrafo 52 co somministrazione con sequestranti di acidi biliari la somministrazione di zevast deve avvenire a 0 yen 2 ore prima o a 0 yen 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante di acidi biliari co somministrazione con altri medicinali nei pazienti trattati con agenti antivirali antiepatite c il basvir barra grazzo previr simultaneamente alla torvastatina la dose di torvastatina non deve superare i 20 mg barra di e vedere i paragrafi 4 4 e 4 5 modo di somministrazione e zevasta destinato alla somministrazione orale la compressa deve essere deglutita con un quantitativo sufficiente di liquido ad esempio un bicchiere d'acqua e zevast può essere somministrato come dose singola in qualsiasi momento della giornata preferibilmente sempre alla stessa ora con o senza cibo contro indicazioni ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 61 il trattamento con e zevasta controindicato durante la gravidanza e l'allattamento e nelle donne in età fertile che non fanno uso di adeguate misure contraccettive vedere il paragrafo 46 e zevasta controindicato nei pazienti con epatopatia attiva o con innalzamenti persistenti inspiegati dei livelli delle transaminasi sieriche eccedenti di tre volte il limite superiore della norma lsn e nei pazienti trattati con antivirali antiepatite c glicaprevir barra pibrentasvir avvertenze speciali e precauzioni di impiego miopatia barra rabdomiolisi sono stati segnalati casi di miopatia e rabdomiolisi nell'esperienza post marketing con ezetimide la maggior parte dei pazienti che hanno sviluppato rabdomiolisi era in terapia concomitante con ezetimide e una vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione interazioni farmacodinamiche molteplici meccanismi possono contribuire a potenziali interazioni con gli inibitori dell'hmg coa riduttasi medicinali e prodotti a base di erbe che inibiscono alcuni enzimi ad esempio chip 3 a 4 e barra o le vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere e zevast insieme ad altri farmaci come eurosacido fusidico teva euro eurosalosufa euro eurosaviflucox a euro euroscanacida euro eurosclamodina euro eurosclaritrol a euro eurosclaritromicina accorda euro eurosclaritromicina albusa euro eurosclaritromicina altana euro eurosclaritromicina altera euro eurosclaritromicina docgeneric a euro eurosclaritromicina eg compressa rivestita euro eurosclaritromicina egista da euro eurosclaritromicina più ac Zwebra Έutsche Raid omicin actual a euro a euro scarito micina ckmae euro a euro scarito micin surprised generi x evet�사 eurPro merica căslă euro Euro scaritom micina sendo za euro Euro scarito micinas and ox GMbH granulator euro a euro scarito micina Su na euro aror scarito micina san farmae euro a euro scarito micina diva euro a euro scarito micin accentiva euro a euro sclarma caeuro A euro scrinozola euro enterprise mo micin corta euro a euro Zd floor can euro a euro sclari cromicina pensa euro a euro sclari Roman cina sand de za euro a euros conclari tromicina sand blocks gmbh granulato a euro a eurosclari e tromicina sulla euro a euro sclari torme cina san pharma a euro a euro sclari tromicina TV euro a euro sclari tormizina zenti v Со euro a euro sclamac a euro a euro scrino zola euro a EUROS der momici in cort a euro a EUROS di flucan capsula a quindi euro AEROS di flucan fornere a euro AEROS di flucan Soluzione, uso interno Soluzione, uso interno Soluzione, uso interno Un bambino. che c'è euro a euro snervax. a euro a euro smizzo gloria euro a euro mizzer alt crema euro a euro sni zora la shampoo à euro a euro snag oxide compressa gastro resistente a euro euro snag sacrifie l sospensione a euro a euro sposa con a zolo accord a euro eu rosposa con a zolo a claero euro sposa con a zolo e gto euro euro sposa con a zolo e gta anna euro a euro sposa con a zola fresenius karga euro a euro sposa con a zola milan farma a euro a euro sposa con azzolo milan a euro, a euro sposa con azzolo sanduza a euro, a euro sposa con azzolo teva a euro, a euro srifadina a euro, a euro srifatera a euro, a euro srifina a euro, a euro sriflax a euro, a euro srifocina a euro, a euro soriclar, compressa rilascio modifichetto a euro, a euro soriclar, compressa rivestita a euro, a euro spendora a euro, a euro sporanox, capsula a euro, a euro sporanox, soluzione a euro, a euro stedima a euro, a euro strazzera a euro, a euro striesporin, capsula a euro, a euro striesporin, Soluzione a euro, a euro Strimicos a euro, a euro Sveclam, compressa rivestita a euro, a euro Sveclam, compressa rivestita, granulato a euro, a euro Sveclam, polvere a euro, a euro Spend, compressa rivestita, compresse rivestite a euro, a euro Spend, polvere a euro, a euro Svoricon Azzolo Accorda a euro, a euro Svoricon Azzolo Aristo a euro, a euro Svoricon Azzolo Eurobindo a euro, a euro Svoricon Azzolo Diarreddisa a euro, a euro Svoricon Azzolo Idiscus a euro, a euro Svoricon Azzolo Milan a euro, a a euro svoriconazzolo sandozba euro, a euro svoriconazzolo sandozza euro, a euro svoriconazzolo deva euro, a euro svinca euro, a euro svinclera euro, a euro szamizzola euro, a euro szerfuna euro, a euro szinerita euro, a euro szoloderà euro, eccetera. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere zevast durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere zevast durante la gravidanza e l'allattamento. Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono usare misure contraccettive adeguate durante il trattamento, vedere il paragrafo 4, 3. Gravidanza. Zevast ha controindicato durante la gravidanza, vedere il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Zevast ha un'influenza trascurabile sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, prima di mettersi alla guida o di utilizzare macchinari, occorre considerare che sono stati segnalati casi di capogiro. Effetti indesiderati. Tabella delle reazioni avverse. Le frequenze sono classificate come. Molto comune, a 0 ien un decimo. Comune, a 0 ien un centesimo, un decimo. Non comune, a 0 ien un millesimo, un centesimo. Raro, a 0 ien uno, dieci, zero zero zero, un millesimo, e molto raro. Uno, dieci, zero zero zero. E, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'eventualità di un sovradosaggio, devono essere impiegate misure sintomatiche e di supporto. Si raccomanda l'esecuzione di test di funzionalità epatica e il monitoraggio dei livelli sierici di CPK. Ezetimib. Negli studi clinici, la somministrazione di ezetimib 50 mg barra via 15 soggetti sani, per un periodo fino a 14 giorni, o 40 mg barra via 18 pazienti con ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni, ha stata generalmente ben tollerata. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio, la maggior parte dei quali non associata a esperienze avverse. Le esperienze avverse segnalate non sono state gravi. Negli animali non ha stata osservata tossicità dopo dosi singole per via orale di 5000 mg barra chilogrammi di ezetimib in ratti e topie di 3000 mg barra chilogrammi in cani. Atorvastatina. A causa dell'elevato legame di atorvastatina con le proteine plasmatiche, non si prevede che l'emodialisi incrementi in misura significativa la clarance di atorvastatina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze modificatrici dei lipidi, inibitori dell'Hmg coa riduttasi in associazione con altre sostanze modificatrici dei lipidi, codice ATC. C10B05. Meccanismo d'azione. I livelli elevati di colesterolo plasmatico sono derivati. Proprietà farmacocinetiche. Il medicinale di associazione ha stato dimostrato essere bioequivalente alla cosomministrazione di dosi corrispondenti di ezetimib più atorvastatina incompresse. Assorbimento. Ezetimib. Dopo la somministrazione orale, ezetimib viene assorbito rapidamente, dati preclinici di sicurezza. Ezetimib. Studi sulla tossicità cronica di ezetimib condotti sugli animali non hanno identificato organi bersaglio per gli effetti tossici. In cani trattati per quattro settimane con ezetimib, a 0i003 mg barra kg barra die, la, elenco degli accipienti, lattosio monoidrato, carbonato di calcio, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato e 487, cross carmellosa sodica, povidone K30, idrossipropilcellulosa, magnesio stiarato, polisorbato 80, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ezetimib più atorvastatina sono. Ancilleg, ezetimib e atorvastatina doc, kexrolt, orvatez, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, agenzia italiana del farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, agenzia italiana del farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.